Il caso del cameraman di .tv bloccato durante il Consiglio Comunale di Bitonto è finito all'attenzione dell'osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia. Oggi con un articolo in primo piano nella home page del sito di Ossigeno per l'informazione, Rossella Ricchiuti racconta quanto accaduto nella sala consigliare la sera del 26 febbraio. Ho provato frustrazione professionale, racconta Vito Schiraldi, che in quel momento stava effettuando le riprese prima di ricordare i fatti. Credo che si sia trattato di un atto grave, è preciso che non abbiamo bisogno di un'autorizzazione per riprendere le immagini di un Consiglio pubblico, è stato il commento del direttore Mauro De Nigris rilasciato ad Ossigeno. L'osservatorio, promosso da ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa e di cui è Presidente Onorario Sergio Zavoli, si occupa di monitorare costantemente le pressioni e le minacce che i giornalisti subiscono in Italia, ma anche nel mondo, e pubblica un rapporto annuale sulla situazione. Nel 2013 i giornalisti che hanno subito minacce in Italia sono stati 123, dal 2006 ben 1752. Le regioni più difficili in cui lavorare sono Lazio, Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia, Calabria e Lombardia.